Cos'è il Fondo Perseo Sirio? Qual è il suo ruolo e come è posizionato nel panorama previdenziale italiano? Il Fondo Perseo Sirio è il fondo negoziale rivolto ai lavoratori del pubblico impiego. Il Fondo Perseo nasce dopo la legge di riforma del sistema pensionistico e dopo gli accordi tra le parti, ovvero ARAN per il datore di lavoro del pubblico impiego, cioè lo Stato e le organizzazioni sindacali. È rivolto ai lavoratori del pubblico impiego, dalle funzioni centrali, dai ministeri, alle agenzie, fino alle funzioni locali, cioè i comuni, le asle, gli ospedali, tutto quello che è la sfera del pubblico impiego. L'obiettivo del fondo, che è un soggetto non profit, è solo quello di raccogliere il capitale del singolo lavoratore e costituire il suo pacchetto previdenziale, ovviamente valorizzando il suo investimento e restituire alla fine del percorso lavorativo o la rendita o il capitale raccolto. In questo momento nel nostro paese il Fondo Perseo Sirio ha circa 75 mila aderenti, ancora una percentuale troppo bassa rispetto al potenziale che il fondo ha. Le performance sono molto positive, ovvero il fondo dà una rendita maggiore rispetto a quella che dà il TFR e soprattutto molto maggiore anche vista l'assenza di costi, essendo un soggetto non profit, ovvero di costi relativi al profitto che nella previdenza di tipo individuale deve essere legittimamente costruito. Nella previdenza negoziale questo non c'è, per cui le performance sono molto positive.